Ragazzi ma quante novità da Ratti Auto BMW Serie 2 Andiamo a vederla subito Questi gli interni Eccola qui Allora ragazzi BMW Serie 2 Active Tourer 2.0 di cilindrata 150 cavalli Aziendale con solo 29.000 km Se siete interessati Frenotate il vostro test drive Andando nel link Trovate in descrizione Questa è più di 500 auto disponibili Km 0 aziendali e usate Vi aspettiamo da Ratti Auto Bella Ciao